Non sarà confermato, ma se fosse confermato... Buongiorno e benvenuti al Caffebor. Ormai da qualche giorno rimbalza su tutti i più famosi magazine e riviste scientifiche la notizia che un gruppo di ricercatori coreani avrebbe trovato e realizzato un nuovo materiale superconduttivo a temperatura e pressione ambiente. Cioè un materiale che potrebbe essere utilizzato davvero nella vita di tutti i giorni, nei nostri dispositivi e non solo nei laboratori di ricerca, a temperature molto basse. I superconduttori noti finora acquisiscono infatti questo stato solo a temperature molto basse, cioè quando si trovano al massimo a circa 130 Kelvin, ovvero meno 140 gradi centigradi. E questo significa che hanno bisogno di un raffreddamento molto particolare per poter continuare a operare in questo stato specifico. Altrimenti, al di sopra di questa temperatura, chiamata temperatura critica, diventano materiali normali e possono essere ad esempio normali conduttori, come il rame o l'argento al più. Questo materiale invece, chiamato dagli scienziati stessi LK99, sarebbe quindi potenzialmente rivoluzionario. Tuttavia, come si dice, una rondine non fa primavera e noi scienziati diciamo che un esperimento non fa una scoperta. Per diventare tale, infatti, ha bisogno di essere ripetuta da altri gruppi di ricerca e altri scienziati in modo da essere confermata. Non perdetevi questo video! Ma andiamo con ordine e analizziamo i precedenti. È infatti il marzo di quest'anno, 2023, quando viene pubblicato sulla famosissima rivista internazionale scientifica Nature, un articolo da parte di un gruppo di ricercatori dell'Università di Rochester, nello stato del New York, negli Stati Uniti, in cui vengono riportati esperimenti che sembrerebbero dimostrare che un materiale specifico basato su idrogeno e azoto sarebbe superconduttivo a temperatura ambiente, quindi a circa 20 gradi centigradi, ma a pressioni molto elevate, cioè circa 10.000 atmosfere, cioè 10.000 volte la pressione atmosferica. Questo risultato viene anche presentato nella conferenza di fisica più grande e importante del mondo, il cosiddetto March Meeting della Società Americana di Fisica, che si è tenuto a Las Vegas. In quell'occasione numerosi scienziati hanno assistito quindi alla presentazione appunto di questa recentissima scoperta. Tuttavia sono sorti subito molti dubbi e perplessità, visto anche il passato fraudolento di questi ricercatori. Infatti dobbiamo fare un passo indietro e tornare nell'ottobre del 2020, quando lo stesso gruppo di ricercatori ha pubblicato un altro articolo sostenendo di aver trovato un superconduttore basato su idrogeno a temperatura ambiente, quindi fino sempre a circa 20 gradi centigradi, ma ad una pressione molto elevata. Piccola parentesi, se volete approfondire l'argomento della superconduttività, come funziona, come ha origine e in che cosa consiste, e in particolare anche volete approfondire questa scoperta, questo risultato della superconduttività a temperatura ambiente e pressione molto elevate, vi lascio anche in descrizione e qui su nelle info due video che ho fatto appunto sull'argomento. Vi ricordo inoltre, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al canale per aiutare a supportarlo e rimanere sempre aggiornati su queste notizie di fisica. Altri ricercatori hanno analizzato quei dati e hanno provato a ripetere gli esperimenti, tuttavia sui dubbi sollevati non sono state date adeguate risposte e sono stati anche ipotizzati e trovati possibilità di falsificazione dei dati e quindi di una frode scientifica. Di conseguenza l'articolo è stato ritrattato nel mese di settembre del 2022. Di conseguenza è calato un generale clima di pessimismo e scetticismo riguardo a qualunque tipo di superconduttore a temperatura ambiente e gli scienziati stessi si sono interrogati se fosse effettivamente fisicamente possibile ottenere un materiale con proprietà e uno stato di superconduttore a temperatura ambiente. La svolta avviene nell'aprile di quest'anno, quando un gruppo di ricercatori coreani pubblica sulla rivista Journal of the Korean Crystal Growth and Crystal Technology, sconosciuto ai più, un articolo intitolato Consideration for the development of room temperature ambient pressure superconductor, LK99, cioè Considerazioni per lo sviluppo del superconduttore a temperatura e pressione ambiente LK99. In realtà questo articolo non è stato particolarmente notato appunto perché si trattava di un articolo in una rivista nazionale, quindi conosciuta soprattutto in Corea. Arriviamo quindi al 24 luglio 2023, quando appare sull'archivio pubblico online di articoli scientifici un articolo scritto dai tre coreani Sukbae Lee, Jin Hoon Kim e Jung Wan Kwon, intitolato questa volta The First Room Temperature Ambient Pressure Superconductor, cioè il primo superconduttore a temperatura e pressione ambiente. È da qui che la notizia inizia a fare il giro del mondo e rimbalzare nelle riviste scientifiche di tutto il mondo. Ma parliamo ora del materiale superconduttivo, LK99, in particolare sarebbe ottenuto da una reazione tra l'anarchite e fosfuro di rame, che dà origine ad una sostanza di colore grigio scuro che appunto sarebbe superconduttiva. Questo materiale sarebbe anche attualmente in fase di brevetto presso il KIPO, l'ufficio brevetti coreano. Stando a quanto riportato dagli scienziati, la sua temperatura critica sarebbe di circa addirittura 400 Kelvin, circa 127 gradi centigradi, ovvero la temperatura fino alla quale questo materiale avrebbe lo stato di superconduttore, mentre al di sopra di questa temperatura diventerebbe un materiale normale. Se confermato appunto, sarebbe davvero una svolta perché appunto, come detto, i materiali finora conosciuti essere superconduttori hanno una temperatura critica massima di circa 130 Kelvin, quindi 140 gradi centigradi al di sotto dello zero. Il che lo renderebbe ovviamente interessante per tantissime applicazioni anche nella vita di tutti i giorni. Ma come hanno fatto i ricercatori a dimostrare che questo materiale è veramente un superconduttore? Beh, per dimostrare che un materiale è un superconduttore esistono diversi tipi di esperimenti possibili. La prima misura che si può effettuare è quella della conduzione elettrica, cioè un superconduttore conduce la corrente elettrica in maniera perfetta, cioè senza dissipazione. Questo significa che il superconduttore ha una conducibilità elettrica potenzialmente infinita. Misurare una grandezza fisica che diventa infinita non è ovviamente possibile, quindi tipicamente quello che si fa è misurare non la conducibilità, bensì la resistività, che è l'opposto della conducibilità. E quindi se la conducibilità va a infinito, la resistività va a zero. Tuttavia, anche nella misura della resistività vi sono diversi problemi, perché anche misurare qualcosa che diventa molto, molto piccola e prossima allo zero, con una precisione sufficientemente elevata è molto difficile. E allora come si fa? Beh, esiste un'altra proprietà fondamentale dei materiali superconduttivi, ed è il cosiddetto effetto Meissner. Cioè i superconduttori sono diamagneti perfetti, cioè materiali magnetici che riescono a respingere le linee del campo magnetico di un altro magnete, di un'altra calamita. La conseguenza è che possono levitare, ed è appunto il fenomeno della levitazione magnetica, quello per intenderci con cui restano sospesi i treni a levitazione magnetica superveloci. E infatti gli scienziati coreani, autori di questa scoperta, hanno anche rilasciato un video in cui si mostrava il materiale LK99 in una forma di disco, di un dischetto, levitare al di sopra di un cilindro magnetico. Tuttavia si può anche notare come la levitazione non fosse perfetta e spiegano gli scienziati che questo era dovuto ad alcune imperfezioni presenti nel materiale. E allora possiamo davvero essere ottimisti? È davvero l'alba di una rivoluzione per tutto quello che riguarda i superconduttori e l'elettricità e l'energia? In realtà non mancano sia i punti a favore di un cauto ottimismo e nemmeno quelli a favore di un leggero pessimismo. Questi risultati sono stati anche presentati da uno degli autori di questo articolo al MML23, International Symposium on Metallic Multilayers, una conferenza internazionale tenutasi proprio a Seoul in Corea, come hanno testimoniato alcuni scienziati presenti a questa conferenza su Twitter, ma le risposte date non hanno soddisfatto tutti riguardo a questi esperimenti e al nuovo materiale superconduttivo. Quindi anche se vi sono diversi motivi per cui possiamo essere cautamente ottimisti, ci sono in realtà diverse ragioni che potrebbero invece portare al pessimismo, ovvero che questa scoperta non sia in realtà corretta. Il primo punto riguarda proprio il materiale stesso, cioè il fatto che questo materiale non sia stato studiato in precedenza, non abbia un background storico di fabbricazione, sembra veramente apparire dal nulla come un materiale magico con proprietà incredibili. Gli autori di questo esperimento in realtà non hanno saputo fornire un valido motivo, una valida spiegazione scientifica, del motivo per cui questo materiale sia superconduttivo ad una temperatura così alta. Se infatti è noto il meccanismo che porta alla superconduttività materiali a temperatura molto bassa, è la cosiddetta teoria BCS, in questo caso, non è ancora noto quale sia il meccanismo superconduttivo. Il secondo punto è il preavviso. Non era nell'aria questa scoperta, cioè sembra veramente alimentare questa l'ipotesi di un artefatto. Spesso in molte teorie e anche in molte scoperte c'è una lunga storia di tentativi ed esperimenti falliti che poi hanno portato invece al successo. In questo caso invece riguardo a questo materiale, riguardo a questo tipo di esperimenti, non ci sono altri tentativi nel recente passato. Inoltre bisogna considerare che l'articolo non è ancora stato revisionato da altri scienziati e non è ancora stato appunto pubblicato su una rivista scientifica, ma si tratta solamente di un cosiddetto preprint, cioè di un articolo divulgato prima della pubblicazione stessa. Inoltre c'è già chi ha fatto notare alcune inconsistenze, come il valore della suscettività magnetica misurato in questo materiale tra l'articolo apparso nell'aprile di quest'anno e quello invece apparso a luglio. Ok, quindi potete scegliere se essere ottimisti oppure se essere più scettici e diffidenti. Ma supponendo che questo risultato sia corretto e che venga confermato, quali sarebbero le potenziali implicazioni e soprattutto le applicazioni nella vita di tutti i giorni? Beh, innanzitutto i mezzi di trasporto ne beneficerebbero enormemente. Per primi, per esempio, i treni a levitazione magnetica, i maglev, perché potrebbero funzionare con magneti superconduttivi che sono appunto superconduttivi anche a temperatura ambiente, senza bisogno di raffreddarli o di portarli a bassa temperatura e quindi potrebbero essere molto più economici ed efficienti. Ma anche le auto elettriche potrebbero essere molto più efficienti perché si eviterebbe di disperdere la corrente elettrica sotto forma di calore e quindi anche i motori elettrici potrebbero essere molto più efficienti. Vi sono poi trasporto e stoccaggio di energia elettrica. Trasportare energia elettrica anche all'alta tensione diventerebbe quindi molto più efficiente perché si disperderebbe molta meno energia o appunto zero e di conseguenza diventerebbe molto più economica anche la stessa energia elettrica, in particolare il suo trasporto, ma anche lo stoccaggio perché sarebbe possibile anche realizzare delle batterie super efficienti che quindi non disperdano la loro energia e che la mantengono quindi molto più a lungo. Passiamo quindi ai dispositivi elettronici come gli smartphone, i computer, i tablet, ma anche gli elettrodomestici. Anche questi dispositivi sarebbero molto molto più efficienti. In effetti non ci sarebbe da un lato il problema del suo riscaldamento, potrebbero avere una potenza e anche un'efficienza molto maggiore e quindi una durata della batteria notevole. Non solo, ma a questo punto verrebbe meno anche per esempio la necessità del raffreddamento ad aria oppure liquido di questi dispositivi come i laptop, ma anche i super computer. Se pensiamo ad esempio ai grossi centri di calcolo, anche in questo caso si ridurrebbe drasticamente il consumo energetico e di conseguenza diventerebbero anche molto più economici questi dispositivi e accessibili a molte più persone. Rimanendo sempre nell'ambito della computazione, beh, come non citare ad esempio i computer quantistici. Infatti alcuni computer quantistici sono basati su qubit superconduttivi e in questo caso quindi non necessiterebbero appunto del raffreddamento, di cui invece hanno bisogno ora, che li rendono quindi molto più costosi e tecnicamente anche difficili da realizzare. Ma le applicazioni non finiscono qua. Infatti, per esempio, la stessa risonanza magnetica, quella che facciamo per intenderci all'ospedale, utilizza dei magneti superconduttivi e con un superconduttore a temperatura ambiente sarebbe possibile completamente riprogettare questi dispositivi e renderli molto più economici, perché non avrebbero bisogno appunto del raffreddamento e quindi questo permetterebbe delle diagnosi e delle cure mediche anche in generale più economiche e accessibili. Non solo, ma anche sensori, per esempio vari sensori infrarossi oppure di campi magnetici, sono attualmente basati su dei superconduttori e di conseguenza sono destinati solamente all'utilizzo professionale o ai laboratori e sono molto costosi. Se i superconduttori possono operare ad una temperatura ambiente invece, questi dispositivi pure potrebbero essere molto più diffusi e molto più economici, perché appunto non avrebbero bisogno di un sistema complesso di raffreddamento a temperature molto basse. Infine anche la fusione nucleare ne potrebbe beneficiare, perché sappiamo che attualmente uno dei dispositivi fondamentali per la fusione nucleare è appunto costituito da magneti superconduttivi e di conseguenza se fosse possibile utilizzare un superconduttore a temperatura ambiente anche in questo caso diventerebbe più economica e soprattutto tecnicamente più semplice da realizzare. In ogni caso la ricetta per LK99 sembra piuttosto facile e immediata e di conseguenza potremmo dover aspettare anche solo pochi giorni o settimane per avere eventualmente altre conferme sperimentali da parte di altri gruppi in giro per il mondo e sapere così se possiamo veramente essere ottimisti per il futuro. E con questo è tutto. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, spero che il video vi sia piaciuto, in questo caso lasciate un like, iscrivetevi al canale, condividete questo video con i vostri amici e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao, alla prossima!